Lo ammetto, nell'ultimo periodo ho provato diverse app di produttività, un po' per esigenze aziendali, un po' perché ne escono di nuove ogni minuto che passa praticamente, e mi diverto sempre a cercare di capire se c'è qualche nuova feature che possa fare il lavoro al posto mio. E poi sì, anche perché ero nel pieno nel mio periodo di ricerca per il mio metodo di produttività da presentarvi nel nuovo videocorso Progetto Pro, ma ne riparliamo alla fine. Dicevamo, in questo video cerco di farvi risparmiare un po' di tempo tra prove e test vari e vi parlo di 5 app di produttività che potete usare da cellulare tra quelle che mi sono sembrate più funzionali in assoluto. Non posso che partire da Notion, fulcro dell'intero flusso di lavoro di ADC, la mia azienda, luogo sacro in cui viene custodito tutto quello che riguarda la mia attività. Ogni giorno mi sveglio e prego che non vada mai in crash per nessun motivo al mondo. Ma entriamo nel dettaglio, che cos'è Notion? Si tratta di una piattaforma in cui possiamo creare uno spazio di lavoro singolo o in condivisione che ci permette di inserire pagine di testo, immagini, tabelle, fogli di calcolo, database, insomma tutto il necessario per organizzare attività e progetti. Ora la verità è che la pagina Notion dell'azienda non l'ho creata io e proprio per questo funziona perfettamente. Grazie Marzia, grazie. A parte gli scherzi, Notion ha un'alimentazione e richiede un po' di smanettamento, non è un software facile e accessibile a tutti subito perché mette a disposizione feature molto precise ma anche un po' complesse. Bisogna studiarsela un attimo questa piattaforma prima di poterla usare al 100%. Ma la buona notizia è che nel blog ufficiale di Notion trovate un'infinità di guide per iniziare a impostare le vostre pagine. In più è pieno di influencer e appassionati che mettono a disposizione i loro template. Noi ad esempio abbiamo creato una serie di template fenomenali per il nostro nuovo corso, Progetto Pro. E comunque basta scorrere un attimo gli articoli di spiegazione per capire che con Notion si può fare potenzialmente di tutto. Nel video sul metodo PARA per esempio vi ho parlato del template di Thomas Frank basato proprio sulle teorie di Tiago Forte che si chiama Second Brain e quello è solo una piccola parte di quello che si può realizzare con la struttura a blocchi di Notion, davvero c'è da sbizzarrirsi. Ora già a guardarlo vi sembrerà ovvio che per impostare da zero la pagina sia più comodo utilizzare il software dal computer ma io vi assicuro che l'app rende perfettamente anche da cellulare o da tablet. Se decidete di usare un template già pronto o se avete intenzione di creare pagine molto semplici e lineari non avrete nessun problema a consultare il vostro spazio di lavoro anche da uno schermo più piccolo che sia quello del cellulare o del tablet appunto. In altre parole Notion è al primo posto della mia personale classifica delle app di produttività e no ancora non mi pagano per dirlo. Ma Notion se volete contattarmi io sono aperto, mi pagate io soldi. Seconda app da tenere in considerazione Asana. Qui siamo principalmente nell'ambito del project management. Le funzionalità più interessanti di Asana riguardano l'impostazione di calendari condivisi, bacheche per il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti e grafici che mostrano il quantitativo di lavoro effettuato da specifici utenti su specifiche attività. Insomma si tratta di una sorta di pannello di controllo da cui è possibile impostare e poi tenere traccia dell'intero flusso di lavoro di diverse persone. Molto utile anche il sistema di messaggistica interna integrato in cui si possono inviare messaggi diretti ai collaboratori e alle collaboratrici e ricevere anche aggiornamenti sulle attività che ci sono state assegnate o che stiamo seguendo. Anche all'interno di Asana troveremo una sorta di area di lavoro condivisa a quella che viene definita organizzazione e cioè tutti i collaboratori che utilizzano Asana all'interno dell'azienda o del gruppo di lavoro. Dopodiché possiamo ulteriormente suddividere il gruppo in vari team e associare ad ogni sottogruppo un progetto e le sue attività corrispondenti. Anche in questo caso l'utilizzo da cellulare cambia davvero di pochissimo ma come nel caso di Notion l'impostazione del lavoro diventa molto più semplice dalla versione desktop. C'è poco da fare. Comunque da provare. Slack. Qui siamo sull'app più particolare di tutte forse. Slack è un'app di messaggistica sostanzialmente. Permette di aprire e lavorare contemporaneamente su più flussi di comunicazione o canali. In questo modo possiamo suddividere il lavoro per argomenti e temi o per progetti assegnati a diversi team di lavoro. Naturalmente è molto diversa dalle altre app che vi ho proposto perché non ci sono task list o tabelle di monitoraggio del tempo o cose di questo tipo. Slack risolve principalmente problemi legati alla comunicazione, la rende più agile, più veloce e permette di ritrovare velocemente e facilmente informazioni necessarie a quello che stiamo facendo. In più può essere integrata con Asana creando una bella combo per il flusso di lavoro e può essere usata anche in asincrono. In qualunque momento si può accedere ai canali che sembrano delle vere e proprie chat tematiche con tanto dimensioni e recuperare le informazioni che servono. Decisamente promossa. Ultimo strumento che vi voglio consigliare ClickUp, un altro software multifunzione simile ad Asana. Anche in questo caso tra gli strumenti più famosi e più utili ci sono i report di monitoraggio che permettono di tenere traccia sia dell'andamento dei progetti sia del lavoro dei collaboratori su specifiche attività. Ma quello che trovo interessantissimo di questa tipologia di app è proprio la possibilità di essere sempre perfettamente sincronizzati con il resto dei colleghi o comunque delle persone che lavorano con noi su specifici progetti. Proprio come se si lavorasse spalla a spalla. Fondamentale soprattutto nel caso di gruppi che collaborano da remoto. Anche gruppi di studenti, perché no? Altra feature interessante di ClickUp è la possibilità di richiamare tutte le mail relative a specifici progetti. E se uniamo anche la possibilità di integrare Slack pure qui si viene a creare un box di messaggistica in cui far confluire proprio tutta la comunicazione necessaria per i progetti in corso già bella ordinata e suddivisa. Praticamente un miracolo della produttività se consideriamo il tempo risparmiato a cercare nei meandri della casella riposta elettronica e delle 300.000 chat di WhatsApp che dobbiamo tenere d'occhio. Anche questa approvata. Anche da mobile ho provato ad utilizzare le feature principali e l'unica limitazione sta forse nella creazione di documenti direttamente dall'interno dell'app che su schermo piccolo potrebbe essere meno funzionale. Ma si tratta comunque di minuzi e resta comunque uno strumento eccellente. Queste sono secondo me le app di produttività più funzionali in assoluto tra tutte quelle che ho provato nell'ultimo periodo e anche le più complete. Naturalmente ci sono poi quelle molto specifiche il cui utilizzo si concentra specificamente sulla task list o sui calendari condivisi ad esempio. Ma in queste app in particolare ho trovato un insieme di feature importanti per impostare l'intero flusso di lavoro. Lo stesso obiettivo che mi sono dato per il mio nuovo videocorso Progetto Pro in cui ho puntato tutto sul fornirvi una completa routine di produttività per il lavoro ma anche per lo studio dall'analisi delle vostre necessità del vostro progetto al completamento di ogni minuscola attività. Progetto Pro vi segue in tutto quello che dovete fare ottimizzando al meglio il vostro tempo e le vostre risorse. Tornando alle nostre app fatemi sapere se le avete provate o se ne avete altre da consigliarmi o magari se ce ne sono alcune che evitereste del tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.